Il 30 gennaio 1968, proprio qui di fronte al rettorato in piazza San Marco a Firenze, si verificano i primi scontri violenti del 68 italiano tra studenti e forze dell'ordine. Siamo in un momento cruciale tra le occupazioni del novembre 67 e gli scontri di Valle Giulia del marzo 68, a poche ore dall'offensiva del TET che rovescia le sorti della guerra del Vietnam e infiamma i giovani di tutto il mondo. In questo senso la giornata fiorentina, lo racconteremo nel corso di questo incontro, restituisce alla perfezione il senso del 68, prima protesta globale della storia e al tempo stesso protesta locale e nazionale. Il 68 è un anno spartiacque per tutto il mondo, per l'Occidente è il culmine e al tempo stesso la crisi della fase di benessere seguita alla Seconda Guerra Mondiale. In Italia è più radicale e più prolungato nel tempo a conferma di una modernizzazione profondamente squilibrata.